Ciao a tutti da parte di Alberto e benvenuti a questa live session al No Limit 25 di PokerStars su 6 tavoli normal Sto giocando da una decina di minuti più o meno, abbiamo già perdicchiato qualche pot a destra e sinistra E niente, sto girando un po' di video, sto giocando un po' questo video per far vedere come comportarsi un po' a questo livello Allora, iniziamo un po' dal tavolo numero 5 dove Vexilium ha tribettato e ha cibettato qui, penso già di foldare al flop su questa tipologia di texture Mentre con sempre al flop penso di givappare, vabbè non apro altri tavoli perché questi comunque mi bastano E dicevo, quali sono le info che abbiamo? Fusoninetto, questo forse ha girato Fusoninetto mi ha, in uno spot in cui era tipo 50 big blind, è andato rotto con 2 pair e avevo over pair Pensavo potesse broccare anche con 2 pair, quindi rimango convinto della mia scelta Ed è la prima informazione che abbiamo ovviamente su di lui Mentre per quanto riguarda gli altri tavoli abbiamo fatto solo una value bet su questo Dani Castro che gioca 4 tavoli Più un qualifier credo per l'afternoon Quindi cercherò di prendere informazione, oggi stiamo iniziando a utilizzare l'add perché dopo una serie di video no add Inizierò adesso a riutilizzarlo, ho resettato il database da zero Perché voglio che voi vediate una persona che si mette in gioco con zero info Quindi una persona che non ha informazione, una persona che si è appena trasferita in una poker room E deve iniziare a battere un livello Quindi un giocatore che è tendenzialmente buono per il livello Vediamo un po' quante mani ci vogliono per battere questo benedetto livello, come si comporta e così via Quindi cercheremo di raccogliere informazioni e proprio vedrete la mia vita in tempo reale Quindi questa è l'intenzione vera e propria Allora, 9-8 con Ricky Maniac Penso di poter check resare in questo spot Vi farò anche vedere quali sono i tavoli secondo me da quittare La cosa che dovrei fare invece è questa Ma l'ho scordato un attimino Questo che ancora ce l'ho Ok Allora, Ricky Maniac volevo check resare Giocherò bet-bet adesso Immagino che la maggior parte delle mani possano ancora bettare E a questo punto andiamo tipo a simulare una value So che posso essere abbastanza bleffabile in questo spot O comunque raisabile Non mi aspettavo il call con Asso Donna Sinceramente non lo reputo ottimale Alla fine se ci pensiamo in questo spot abbiamo troppe mani migliori E io ho troppe carte da ribarrellare Quindi non credo sia ottimale il suo call al turn Per questo ho preferito bettare Ma visto che comunque lui allarga così tanto il suo calling range Noi andremo a prendere ovviamente ulteriori informazioni Difendiamo 2-2 in basso a destra Mentre in alto a sinistra check reseremo Donna-Donna Con il giocatore che reputo occasionale Una volta che check andremo a bettare Abbastanza robusto al turn e abbastanza robusto al river Ho checkato perché prima si era comunque dimostrato un pizzico aggressivo Anche se non tantissimo Il colore azzurro adesso lo inserirò non per il reg debole come facevo in passato Ma per il reg sul quale ho poche informazioni In questa maniera man mano che prenderò informazioni Stabilirò se metterlo giallo Quindi reg normale, reg decente O se lasciarlo ovviamente azzurro Oppure se creare un nuovo label Questo me lo penserò col tempo Ok, questo mi serve ovviamente per fare selection Perché cercherò nonostante tutto di fare selection In quanto è la prima cosa che vi devo insegnare Ecco questo ad esempio Tanto perché c'è un tavolo da mollare Non me ne ero accorto Perché? Perché lo scopo che abbiamo noi è quello di guadagnare denaro Se lo scopo è guadagnare denaro Dobbiamo giocare nei tavoli a noi più vantaggiosi A me non interessa se questi player sono veramente forti o deboli So solo che sono comunque pseudo reg o reg Quindi fuori dalle palle io Cioè fuori Ci sono in questo momento Saranno una ventina di tavoli al normal Perché devo iniziare a battagliare con altre persone Ricordate che l'ego È una delle cose che ci danneggia di più È uno degli elementi che ci porta a commettere la maggior parte degli errori Dettati da frustrazione Da voglia di supremazia Dettati probabilmente da dei fattori Che non la centrano Con la capacità di essere Superiore o meno a un altro avversario Quindi di nuovo Come ho detto Zero ego Avete un tavolo full reg Andiamo ad un altro tavolo Porca miseria Ce ne sono 50 Perché devo continuare a giocare il tavolo Avete un tavolo pieno di nitti Non vi trovate bene Cambiate tavolo Vediamo qui Ok per ora va bene C'è comunque questo Luca Che è occasionale Ma ce l'abbiamo di fronte Non ce l'abbiamo da un lato Ecco se ne è andato Fuori dalle palle anche noi Cioè giochiamo un tavolo in meno per ora 6-7 è un po' marginale come over Apriamo altri tavoli Apriamo lo zoom Facciamo altro Troppi reg Facciamo review Non importa L'importante è giocare alle condizioni migliori possibili Avete un reg che pensate di esploitare bene Rimanete al tavolo Ovviamente Quella è la cosa più importante Ma finché potete Cercate sempre di avere i migliori tavoli a vostra disposizione Sempre Ho chiesto 7 con Molto importante anche osservare cosa faranno i vostri avversari Questo Matteo Matteo Ok questo come Ok c'è questo qui potrebbe essere l'occasionale Più tutti i player che sembrano avere un approccio da reg Quindi in queste situazioni ovviamente Borderline Avendo il giocatore occasionale alla sinistra di due posti Non è che stiamo prendendo proprio un tavolo ottimale Però va bene 4-6 sud La inserisco nel range di 3-bet in bluff Bene così Forse anche un po' grandino ha fatto Mentre KG è assolutamente un call lineare su open cutoff A questo punto mi limiterò al check call Non vedo grossi meriti nel giocare diversamente Checkerò ancora il turn sperando in una sua delay e provando a cambiare un po' le sorti di questo spot Se dovesse checker è back Potrei ancora check resare il river Quando check è qui spero a questo punto che Gli venga voglia di bluffare il river Ma tanto uscire Don Cando non ha molto senso Flastro non ne ha moltissimi nel range Potrebbe inventarsi qualcosa Non si inventa un Kaiser E quindi subito andremo a prendere qualche informazione su di lui Che con 9-9 ha deciso di buttare il tunnel Vabbè ci sta Ha scelto ovviamente una street singola di Velo Non ha trasformato la mano in bluff Anche perché non fa foldare un cazzo Quindi va bene Ovviamente quando gli avversari giocano bene Cioè non è che c'è bisogno ora lì di star due ore a guardare la mano Cioè a volte fanno anche le cose giuste 4-8 Va bene sì 3 3-3 avevo giocato per settare Come avete visto i 3 sono fioccati al tavolo Quindi va bene così Tribettiamo a Sodonna contro Vexilium 41 mani pochissime informazioni Tripsiamo Va qui potremmo sia bettare che ceccare Provo le bet Smollish Vediamo come reagisce La prima volta che gliela faccio La prima volta che ci chiamo un tribettato Il capo può essere usato da carta ponte Cosa significa? Cioè elevarla affinché si possa utilizzare come sorta di bluff Per poi aver bettato i river Quindi farò ancora piccolino al turn D'altronde lì l'alternativa è ceccare Per lasciare che lui betti i turn e i river Io non ho idea di questo come si approccia a queste Diciamo a queste combinazioni Quindi provo io a bluffare un po' di più Per prendere un'altra stritta di value dalle pair Come dicevo in questo spot Un'alternativa quale può essere? C'è quel turn e lascio che i suoi jack t Asso jack O varie combinazioni di questo tipo Bettino il turn e sciovino il river Il problema è che non so quante volte lui sia in grado di farlo Quindi abbiamo due opzioni e entrambe sono valide a mio modo di vedere Scegliamo solo una delle due in questa situazione Probabilmente aveva semplicemente un floating affoldato Oppure gli ho fatto passare una pair Come lo scopriamo? Serve tempo Per scoprirlo serve tempo Quindi bisogna mettersi lì Sbattersi un attimino E cercare di capire Quale delle due situazioni porta più vantaggio Ricky Vabbè non abbiamo informazioni Quindi direi che il 6-2 è marginale Questo sembra essere occasionale Quindi io onestamente Non ci rinuncio a difendere Chiaramente sul reg L'avrei anche difesa magari in maniera diversa Una la chiamiamo Abbiamo tripsato Quindi credo di andare a check-resare il turn Chiaramente non ho informazioni Ma finora non si è dimostrato Diciamo timido Per quelle pochissime mani che abbiamo Potevo anche doncare Sì ma non so quanto vantaggio può avere Checca L'unico modo che ho per prendere un piatto grosso È quello di check-resare il river Quindi proverò ancora a check-resare Sperando che abbia qualche sorta di mano Con la quale vuole team value bettare Certo il rischio è che c'è chi dietro E perdo valore Naturalmente Però immagino Ok Immagino che comunque l'alternativa Sarebbe stata abbastanza Marginale Questo è un'occasionale La mani andata a check-check turn Potrebbe andare ancora a check-check river Secondo me E potremmo essere buoni Value non ne vedo tantissimo Qui in bvv Asso 5 la difendiamo Il board non è minimamente nostro amico Direi che possiamo givappare Allora Monoton Prendiamo value da tutti i flashtro Pair con flashtro Assolutamente una Una bet Come size cerco di andare Relativamente sul robusto In quanto Voglio sicuramente prendere value Prima che scenda la fiori Asso 5 Vabbè Delay Su delay non c'è molto a dire Qui in realtà è molto marginale Abbiamo ancora pochissime info Però preferisco comunque Tenerla dentro nel range di call Non lasciare che Ci si trovi in una di quelle situazioni In cui comunque Vado a foldare tanto Preferisco Difendere soprattutto Queste tipologie di mani Ovviamente La cosa più importante in questi casi È anche andare a guardare il board E vedere se Un minimo Diciamo Centra con quello che abbiamo noi Jack 9 Borderline secondo me Non avendo alcun tipo di blocker Per quello che può scendere Direi che possiamo giocare Bet Check call sicuro Tarn E poi rivaluteremo sicuramente Il river Perché? Perché per quanto La nostra mano Sia totalmente Diciamo Top air Cioè battiamo solo Tipologie di bluff Quello che penso io In questa situazione Qua se Allora In questa situazione Non blocker assolutamente Nulla Di Di tutti i floating Del mio avversario Asso jack molto spesso Lo tribetta K jack non so se lo value betta Allora qui il vero La vero tra virgolette Inculata È se il mio avversario Riesce a value bettare Q jack o jack t Ma non credo lo faccia mai Secondo me qui ha Delle sorte di top air Potrebbe avere Qualche sorta di Va in realtà potrebbe avere Qualche sorta di scala Come asso 4 Ma io credo di bluff cacciare In questa situazione Perché oltre ad asso 4 Potrebbe anche avere Diverse tipologie di floating Che vanno a bluffare In questo spot Ora Cos'è che ha chiamato Asso 4 È lineare Cioè deve assolutamente Chiamare al flop Deve assolutamente Bettare a tan E bettare river Quindi Alla fine bravo lui Io Avesse avuto una mano Come che ne so Per capirci Asso jack o la saffiore Avrei foldato river Facile Preferisco chiamare Quella mano Ora è chiaro Questo ragionamente È sbagliato Nel momento in cui Il mio avversario Depolarizza il suo range Al river Ok Fermo restando Che questa mano Si poteva anche Foldare river Per la tendenza Del 90 pass Per cento Del field Comunque A non avere mai Un range Di bluff Al river Allora Tavolo 5 Qui Diciamo che Potremmo fare due cose Provo ad essere Un po' più aggressivo In questo caso Per mettere Veramente tanta pressione Al mio avversario Che naturalmente Potrebbe avere Dei flash Potrebbe avere scala Ma potrebbe avere Dei 7x Siccome mi aspetto Che abbastanza spesso Il mio avversario Possa chiamare Tarne Per poi foldare river Preferisco ingrandire Subito il piatto Al tarne E cercare di prendere Quanto più possibile Qui diciamo che Dovremmo riuscire A fargliele mettere tutte Allora Con 3-3 Abbiamo fatto Col preflop Size molto piccolo Ovviamente lineare Per andare a barrellare Ma Non vado a foldare Ovviamente la mia pay Qui l'alternativa Sarebbe fare Col 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 Tipo come se non ci fosse Un domani Ma preferisco Diciamo arrivare In maniera molto comoda Allo showdown Anche se in realtà Ci si potrebbe Pure inventare qualcosa Solo che come timing Siamo stati un po' stupiti A cercare subito Quindi mi aspetto Adesso che il mio avversario Vada subito a bettare il river Qui si potrebbe risare Per provare a far foldare qualcosa Rappando 7-7 Perché quando si rappano Veramente tre combo in croce È sempre molto difficile Che gli avversari Diciamo Credano alla nostra action Quindi in generale È meglio arrendersi Tornando al bluff catch Con Ricky Maniac In queste situazioni Dovete essere molto bravi Con gli avversari Perché La frequenza Di bluff Della maggior parte Dei reg A questi livelli È veramente bassa Quindi Con Donna Donna Vado a broccare È vero che questo Non ha praticamente Mai tribbettato Ma siamo comunque Un button big blind Versus reg Quindi direi Che non c'è alternativa Qui Questo non ha praticamente Mai messo in gioco Potrebbe col callare Per tenerlo dentro Preferisco comunque Col forbettare Perché non abbiamo Alcuna informazione E qua Iniziere a col callare Non credo sia Una scelta ottimale Soprattutto lui Su 30 mani Non ha mai giocato Non mi aspetto Una tribbetta Molto spesso Quindi immagino Che li potrebbero Roccare agilmente Allora Asso K Riseiamo Qui è rimasto Sempre sto ante raise In questa situazione Ok Entra Mi sono messo Un po' di musica In sottofondo Perché mi piace Comunque quando grindo Sentire Quel po' di carica Quindi Anche dal punto di vista Dell'approccio Darò degli input Che ripeterò Importanti Da tenere in considerazione Spero Ora Qui sarò masochista Ma Spero ogni tanto Di Avere dei colpi Dove perdo Per far vedere Anche qual è Secondo me La reazione importante Che bisogna tenere Quando si è ai tavoli Molte volte Mi si chiede Qual è la problematica Relativa all'approccio E vi assicuro Che l'approccio Al gioco È proprio uno Dei problemi Che hanno Anzi Forse il più grande Problema Che hanno la maggior parte Dei regular Che affrontano Questi livelli Noi dobbiamo solo Pensare A fare la scelta giusta Come vedete La mano con Jack 9 L'ho fatto Ho perso Ok Quella qua Sosso L'ho fatto Ho vinto Ok Ma non cambiava Non cambiava niente Il risultato Non cambiava nulla Tra l'altro Questo tavolo Andrebbe abbandonato Perché comunque lui Sembra avere un approccio Da reg Questo meteo Quindi intanto Gli mettiamo l'azzurro Danny Castle Per quanto Non sembra un reg Che esce Comunque Ha una sembianza Da regular Quindi Diciamo che Attenzione Questo è Merlin Presato Allora Assotti Posso cercare Per poi Delayare Mentre qui Con 8-2 Io non c'ho Proprio nulla Quindi ci devo provare E qui andremo A farne due Qui andiamo A tribettare Qua non vinciamo più Praticamente Con quello lì E qui Assotti Faremo Una sorta di Value piccola Sperando che lui Folgi tutto Quello che non sia QX Quello è l'unico modo Fare più grande Polarizzerebbe troppo Il nostro range Quindi Diciamo Sarebbe semplice Da intuire Per l'avversario Qui blocchiamo Tutte le combo Di Asso K E Asso Jack Qui potrebbe aver senso Anche tribarrellare Con questa combinazione Ovviamente Asso Donna È raro Che fold in questo spot Era Allora Con K Donna Credo che la tribarla Sia abbastanza lineare Con questa Un po' meno Anche perché bloccheremo Giustamente Anche tutte le combinazioni Di Come si dice Le combinazioni Di sia Jack Jack Che Asso Jack Che sono le mani Che potrei far foldare Qui diventa figo Se lui adesso Se ne esce Con una potata Tipo Io fold ovviamente Però diventava figo Perché Perché ovviamente Sarebbe stata una combinazione Quella quale ce l'avrebbe Sbattuta Infatti Ha ceccato Sperando che io Provassi a bettare Ma Non vedevo il senso In quella situazione Di bettare Per far foldare cosa Far foldare magari 10-10 Sì figo Sì figo ma Il problema è che Non credo in quella situazione Di avere moltissimo margine Allora Apen Da cat off Passo 2 difesa Qui vado a bettare Per prendere value Dai flash Da jack t E cercherò Back in river Anche se in realtà Fosse un altra velo Si potrebbe pure fare Cosa chiamata Alla fine 7-4 Figo Forse prendevo un altra velo Ancora Questo ho capito Comunque il tasto Fold non lo conosce Testi tavoli Si devono aprire A parte Ok Questo già Ce lo siamo appuntati Lo so che come appunto Sembra stupido Ma mi basta Per quello che È la mia interpretazione Dello spot Cioè mi interessa capire Come ragiona Questo avversario Non mi interessa segnare Ogni singolo spot Cioè che ha callato Un 4-7 lì Cioè lì per lui C'è doppia coppia a terra Si vince Evidentemente ha anche difficoltà O comunque non ha mai Avuto un approccio Corretto Per quanto concerne Le regole Next06 Che caspita Questo qui Sarà un altro regolo Sto facendo un milione Di tavoli Quindi anche lui Azzurrino E direi che questo tavolo Va acquittato Di nuovo Se dobbiamo dare Un buon esempio Dobbiamo dare un buon esempio E basta Che ci mettiamo adesso Shape of you Vai Ed Sheeran ci accompagna Ovviamente voi non potete sentire Ma va bene Uguale Ah No 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 Mi sarei aperto Un gioco cup Infatti mi stavo Un pochettino infastidendo Allora Oliver Ottimo board Andiamo a fare una bella Continuation bet Vicino al pot Tanto non cambia Un kaiser Se lui vuole giocare Gioca Quindi preferisco Prendere subito Di più Just the nuts Chi è? 9-9 Ne prendiamo subito Una di valore Con Macchiott Vabbè Direi che il board Si è messo in maniera tale Che non posso più giocare Ma forse Potremmo pure essere buoni Ogni tanto Allora Oliver Si è mostrato Aggressivo mai Solo un pochettino Altano Vediamo se anche stavolta Gli piace Sperando che abbia preso Un 7x Purtroppo dobbiamo Riseare Perché altrimenti Non ci riusciamo A prendere lo stack Vediamo qua Come è Danny Castle Just the nuts Vabbè Proviamo a tenere Questo qui Qui con lui Metterò ATC Praticamente Quanto è 7 euro Qua 8,50 Vediamo Tanto alla fine Se ha preso un 7 Pago ugualmente Qualunque altra combinazione Bloccheriamo tutte le top Quindi lì Possiamo andare Secondo me Veramente polarizzati In overbet L'alternativa sarebbe Fare una size Tra virgolette Piccolina Ma Non vedo I grossi vantaggi Nel size Are smallish Lì Questo è un BVB Ok Cerchiamo back La prima Per poi andare A bettare Turner River Così con la scusa Capisco anche Qual è il suo Checking range E quali sono Le combinazioni Con le quali fa Double checking Allora Qui ho flottato La prima Perché abbiamo Gutshot E soprattutto Perché qui Il check race Poteva indicare Diverse comma Se ribette Il turn Una Una carta E comunque Non aiuta moltissimo O mi vado a infilare Uno di quei trip Mentali strani O Può andare bene così Ricky Manek Non me lo ricordo Mai Aggressivo Però potrebbe Aver scelto Di flattare Le 4bet Io non Ci gioco da una vita Quindi andiamo A 4bettare noi Altronde Togliere anche Assocap Dal range di 4bet For value In quello spot Significa veramente Che non for bet Un kaiser Allora Eravamo cut off Vero? Va bene Allora Da cut off Possiamo partire Sia con L'idea di Checkare a render Sia con Un 3bar Per vedere Quali sono Qual è il bottom Degli ASX Con il quale Lui può Chiamare In quello spot Sono entrambe Scelte valide Secondo me Anche questo Taolo sarebbe Da togliere In teoria Vabbè lo tolgo KK Bo Ero Sono indeciso Sinceramente Tra check Resare Il problema Che 0 info Non ho idea Quale sia la scelta Migliore Purtroppo 0 prof 0 info E' chiaro Che non è sbagliato Né bettare Né cercare E' chiaro Che io sto cercando Di trovare Quella che sia A maggiore valore Atteso Cioè quella Che mi porta Più soldi Nel lungo periodo E faccio fatica A trovarla Credo che la bett Sia leggermente meglio Proprio Perché non mi aspetta Questo sul check race Di botto Si inventa Le giocate Come on Vediamo se troviamo Qualche tavolino figo Allo Justinazzi Comunque andando Una notina Da reg Gli la metto Che sempre mi può E dare Così come a Zafod Poi attenzione Segnare un avversario Irregular Non significa Mai segnarlo Come professionista Invincibile Delle partite Si fa semplicemente Questo giocatore Ha un approccio Comunque minimo Sensato Alla partita Il che è importante Per distinguerlo Dagli altri Allora Qui andiamo A cibitare Per valore Qui metto Solo perché C'è quel broc Dietro 2-2 Diciamo che E' andato A farsi benedire Non credo Sarei riuscito A farlo foldare Anche questo È un tavolo Da mollare Per lo più Ora lo lascio Il tempo Che riusciamo A trovare Dei tavoli migliori Vediamo questo Qui com'è Va bene Sarei riuscito Il dasso K Vado a colcallare Più che altro Perché col forbettare Qui non Non credo Abbia molto senso Cioè io non credo Che col forbettando In questo spot Abbiamo grandi Vantaggi Allora L'unico problema Qui è vincidor Perché su Danny Castle Non ho paura Non esistono Mani migliori Rispetto alla nostra L'unico problema Reale è vincidor Qualora vincidor Dovesse avere Qualcosa Tipo 7788 Basta Il resto siamo nati Allora Vediamo un po' di tavoli Dove quittare questo E gli mettiamo questo Qui Attenzione sono diventato Chrome star ragazzi Festeggiamo insieme Questo traguardo Naturalmente per me Che ho mai Giù un gioco Su Vabbè Qui foldiamo lo squeeze Ovviamente i livelli Contrano poco e nulla Ciò che conta veramente L'ottimizzazione Relativa alla rakeback Al guadagno orario Queste sono le uniche cose Che contano ragazzi Non ci sono spot Interessanti Qui con 77 Se Marco Cap Folda Siamo al limite Ma andiamo L'attribbettare Scegliamo L'approccio Aggressivo Ovviamente in alto a destra Saranno Due check call Abbastanza easy Sul terzo Da valutare In questo momento L'idea è provare A bleffarlo Magari Non si sa mai Metta con qualche cosa Pair Roba simile Se rai Sono ovviamente Fold Non mi pongo Neanche il problema Non blefferà mai Uno spot del genere Alcuni fold Non li sto neanche Commentando Tipo questo Con jack 6 Sud Non ha senso Fuso Ninetto Beh Potremmo avere anche Un pizzico di shot down value Quindi possiamo cercare dietro Sperando di arrivarci A scappadonna Vado a tributare Perché voglio tributare Lui Voglio giocare Heads up con lui Quello è quello che mi interessa In questo spot Qua c'è una call for bet Diciamo abbastanza Robusta No vabbè Sempre a fold Poi con questa size Secondo me vuole andare Proprio rotto Con il big blind C'è poco da aggiungere Bettiamo noi Non vedo Troppe mani Che vadano a bettare Verso smisse Di questo spot L'asso diciamo Ci danneggia Un pilino K7 Ah beh sì Vado a foldare Qua Oh Vedendo fatto Diciamo action Sia qui Che su poker S Non nasconde Su poker S Il field Sembra abbastanza Più facile A parità di orario Allora Apriamo questo Kjack Un 6.6 Andrò a foldare Perché l'open Che fa lui Con 50 stack Effettivi Non credo sia il massimo C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Cerchiamo back Anche qui Con S2 Secondo me Allo show no Possiamo vincere Tranquillamente Quando non bettare E' abbastanza easy Che siamo avanti Dopo che partiamo Ho lasciato dell'acqua Perché non riesco più a parlare Vediamo se ci arrivi Eccola qua Ok Allora Andiamo ad individuare un po' Quali sono gli avversari più Da massacrare Allora Andiamo a tributare Meteo Qui ne faremo due For value E cecolleremo il river Cosa c'è cato dietro Il 5 Cioè il 6 Vorrei vedere qualche tribettato Per far vedere un po' Di approcci Diciamo Spot tribettati Ora quello che farò E tutte le sessioni Dove grinderò senza video Farò Marcherò Per fare un po' di review In maniera tale Da andare a far vedere Anche in che modo Si affronta una review A differenza dello zoom Il normale è un po' più lento Però c'è molto più tempo Per guardare bene gli avversari Per prendere informazioni Per far valere il flow del game Quindi ovviamente ogni cosa Pro e contro Molti chiedono Quali siano i vantaggi Di giocare normal I vantaggi sono chiari Gli avversari che hai di fronte Te li guardi proprio per bene Riesci a esplotarli meglio Lo zoom Ti vanno via E' più difficile Prendere note Quindi ripeto Come in ogni cosa Ci sono sempre pro e contro Però è anche vero Che ci sono dei momenti Di morte Proprio totale Qui tributtiamo Ah qui abbiamo anche La soffera Quindi è assolutamente Una value Qui si può anche Cecollare Secondo me Prendo pure il backdoor Una volta che scende questo Quindi andiamo a Bettare il turn Ovviamente Contra alcune di queste Combinazioni siamo morti Attenzione Quale ad esempio 3-3 O anche 10-10 Che non so Se lo for betta Ma non credo Qui si fa interessante Secondo me Stavo riflettendo Sulla mano in alto a sinistra Perché secondo me Non la bleffa lui Infatti Allora Qual è il punto cruciale Stavo valutando Se cecollare qui Allora la mano è data Check check flop Betto Iotar Per ceccare river È abbastanza lampante Da parte mia L'assenza di una combinazione Molto forte Cioè Cosa dovrei giocare Cioè Più che altro Spiego un altro concetto È troppo Bleffa il board Cioè ci sono troppi Missed Quindi Lui Ho paura Si aspetti Sempre da parte mia Un Un bleff catch Quindi io non credo Lui andrà a bleffare Su questo board Questa è l'unica problematica Qui vado a cibettare Voglio far foldare Qualcunque cosa Foldi Ma questo mi sa che Non ne ha tanto cuore Di foldare Qui andrò a cibettare Un po' più grosso Non troppo Versus reg Checkerò back il turn E vabbè River non è nostro amico Quindi cecchiamo back L'idea era ovviamente Su river diverso Provare a prendere Il massimo del valore Tanto tre stritti value Su un bold Già non ce l'ho mai Un'altra Scendo quella carta Abbiamo minimizzato Le perdite In questo caso Dicevo Quindi in quella situazione Secondo me Dobbiamo stare molto attenti Per cercare di prendere Il massimo del value Calliamo qua E No Ricky Manich Non l'ho brava Questo board Qua in teoria È abbastanza spesso Un fold Facciamo un call Un po' più loose Ma Ripeto La maggior parte Si può foldare T9 suited Continuo a ceccare Sperando che sia lui Adesso a bettare Purtroppo Questa non è una gran carta A questo punto però Sono abbastanza certo Di essere bluff cacciato Qui da qualche asso donna Da qualche k donna Mani di questo tipo Che secondo me Potrebbero bluff cacciare A caso Però Il vantaggio qual è? Che lui potrebbe avere Combo come donna donna Che sono assolutamente Coerenti con L'action che ha tenuto Quindi Assolutamente Necessario tentarci Dicevo sul fatto Di foldarla Perché? Perché abbiamo 150 mani Questo non ha mai Tribettato Quindi è chiaro Che potrebbe avere Un range spostato Sul value Ma allo stesso tempo Il fattore R Di realizzazione Dell'equity Di una mano Come T9 suited Credo possa essere Leggermente superiore Qui Su uno small Possiamo fare lo stesso principio Perché vediamo La costruzione Ad esempio Finora Non ha mai Tribettato In 15 casi Da small ball Ha maggior ragione Su early Contro early Ha tribettato Pochissime volte L'idea potrebbe essere Proprio quella Di andare a ragionare Contro un range Veramente ristretto Quindi foldare Che ne so Magari una mano più forte Per andare a bluff cacciare Con una mano più debole Però di nuovo Siamo nel campo Delle supposizioni Quindi in realtà In questi casi Secondo noi Possiamo sempre Prendere la scelta Relativamente più sicura Per noi Qui si squeeze Ovviamente Tt Va bene Questo Si può anche Bettare Asso 4 Così come c'è colla In realtà Sono abbastanza simili Le scelte qui E' un board Dove lui può essere Evitato da 7-8 9-7 Sud Se le difende E poi per quanto riguarda Altre combinazioni Non è che ci sia molto Ma che cazzo Si è aperto Skype Comunque Zafot ovviamente Fa una 4-bet Tutta no sense Si mi si è aperto Skype Dal nulla Fantastico Col mouse Nell'altro monitor Benissimo Allora Adattate che Non so se non vedete La mia barra Semplicemente perché Nell'altro monitor Lontano è un chilometro Quindi forse Si è fatto un aggiornamento Si è spiegato ora Vabbè Torniamo a noi Il mio pc Ragazzi non ne vuole più Questo pc è stato comprato Nel 2012 Anno in cui vivevo a Firenze Per grindare in maniera attiva Siamo nel 2017 5 anni di pc Ancora comunque fa il suo dovere Allora Small blind Frank Probabilmente ha messo Perché c'era dietro Molaretto Quindi è possibile Che non abbia Un calling range Relativamente strong Quindi preferisco Bettare qui Provare a puntare Su una fold equity immediata Ma non so Quanto ne possa avere Qui l'unico bluff Che battiamo È Jack T A questo punto Ci sono tutte le donne Nel suo range Che sono abbastanza Blocherate in realtà Quello che mi spendete più È una pair Vediamo cosa aveva Infatti Quello che pensavo Di far foldare In realtà Ma sono stato un po' Ottimista Allora Faltiamo un po' Di roba Qui 5.5 con assodon Abbastanza short Vabbè ci poteva stare Allora Assodon qui Questo è già più marginale Però questo sta iniziando A dimostrarsi Qui apriamo assottico Che qui chiamiamo assodon Abbastanza marginale Però qui potremmo giocare Molto di percepito Secondo me Sarebbe figo Il K Arriva No qui non posso Mettere un double pot Qui ci provo Per farci bluff Cacciata qualche set Sinceramente Faccio un piccolo Race qui Perché se no Possiamo ancora Prendere valore Resando A questo punto Ci sono i flash Le tuperi inferiori Allora Io perdo sicuro Da 6-6-9-9 Sono 6 combo Lui potrebbe Però avere anche Assu Cioè potrebbe avere Anche Jack-9 Assoluto Perché sono 2 combo Potrebbe avere Flash Tipo QT quadri KQ quadri Secondo me Da shovare Qui perché Se chiamo Ci sono dei river Che lo danneggiano Secondo me Più spesso da shovare Per value Nei confronti Delle combinazioni Che ho appena detto Non ho capito Con cosa ha messo Vabbè Insomma Era value Quindi Ha chiamato Dicevo Andiamo oltre A volte ragazzi Ci stupisco A volte Ci sono dei player Che ci stupisco Veramente tanto Qui avevo Ciaccolato 2 street Perché speravo Di farmi Bleffare Su un river A caso Infatti Ah qui Attenzione C'era una sorta Di Value Figa Comunque Per chi Qualoritasse La sua Comunque Avanti Non è male Come idea Forse le size Un po' grandi Comunque Per lo scopo Forse voleva Prendere valore Da tutto ciò Che era 8-7 8-6 Cioè 8-7 9-8 10-8 C'è cotto Non era Cattivissimo Vedete Quindi andiamo a Bettare Su questo board Icard Di occasioni Sono pochi Ma quando ci sono Veramente vi stupisco Cioè da capire Quel board Se avessi bleffato Ricordatevi sempre Che una volta La mano finisce E è finita Cioè Stiamo lì A farneticare O a riflettere C'è ancora La mano è finita Andiamo oltre Ovviamente K8 Qui Resiamo Q3 La foldiamo 8-3 La foldiamo Un po' di fold Semplice Allora Qui abbiamo Un icard Con Frank Frank Ce l'ho da qualche parte Frank Vabbè Non c'ho informazione Donk Grazie Mi salva la vita Così non mi devo Impellagare In chissà che cosa Qua mi è scappato Un limpa Alla cazzo Non ne capisco Un motivo Questo chi è Vabbè Giustamente No vabbè Stavo valutando Scusate Il silenzio In bassa destra Se potevo fare qualcosa Ma in realtà Poca roba Allora Assojack Si può anche Tribettare Sì Vediamo se la mano Si riesce a portare Check check Allora Il suo range Sono pair Ander Secondo me Si può ancora Cercare Oddio Potrebbe pure essere Buono Questo jack Il problema È perdere D'asso Donna O Asso K Ovviamente Ok Qua Chialiamo Convexilium In BVB Sembra Strano Vado a Raysare In depolarizzazione Al flop Comunque Eventualmente Lassa a cuore Che gioca A favore mio Qualora Volessi Inventarmi Chissà che cosa Su eventuali cuori Eccetera Diciamo che È una sorta Di Rays Un po Fantasioso Se vogliamo Utilizzare Questa frase So jack Preferisco Foldarla Mentre Mi piace Chiamarla Qui Per multiway Io faccio Molta fatica A individuare Il calling range In questa situazione Il problema È che mi sembra Una texture Che di per sé Aiuta abbastanza Bene il mio avversario L'unica cosa È che adesso Posso provare A inventarmela Nonostante Potrei pure Essere avanti Il problema È che non vincerò Mai allo Showdown Continuando così Qua posso Cercolla Facile A questo punto Io provo a ricercare Di nuovo Tanto alla fine Dubito che ci siano Molte occasioni In cui posso Prendere del valore E E qui a questo punto Ci sono dei 5x Poca roba Però Credo che lui Non batterà mai Infatti Ma non avremmo Non avremmo potuto Prendere Stavo riflettendo In alto a destra Qual era la scelta migliore In realtà Bettanti Non so Non so Quanto Possa essere Vantaggioso In quella situazione Allora è lo stesso Dilemma di prima Callo Stavolta però Callo Anche se in realtà Su range Stretto Bisognerebbe andare Ad agire Un po' di più In call for bet Il problema è che ho paura Che questo vexilium Su questa call for bet Finisca Veramente per cagarsi addosso E autofoldare L'asso viene dal board Fa schifo L'asso al flop Fa veramente schifo Devo cercare Anche l'asso a cuore Devo rischiarla così Non ho molte chance Bettare cosa mi produce Posso non chiamare Sì dalle underpair Ma c'è poca roba da fare L'asso mi ha veramente rovinato La vita in questa situazione Proviamo a bettare Sperando che qualcuno Abbia preso il 10 Magari con 10 dice Abbia settato Perché non ho molte chance Qua No vabbè Vexilium lo porto a fold sempre E l'unica speranza Era Frank Allora l'idea di call callare Non è il massimo Anche è vero Perché rispetto a KK Probabilmente ho perso veli Il problema è che non mi aspetto Solo KK In quello spot Questo è il punto Allora Difendiamo in bvb Allora Cerchiamo back la prima E poi andiamo a delayare Così come cerchiamo back qui Frank 14 Beh possiamo callare tranquillamente Qui delayiamo Come già apatizzato Mh L'ho preso la penente Non è il massimo Qui proviamo a farne due In delay Potrebbe avere tutte le quicks Del mazzo Attenzione però Voglio vedere se le chiamo A quel punto E cosa ha Tt Siamo in 3 Vabbè Proviamo ad arrivare a raltarne In maniera molto amichevole Come questo è delayato Intanto voglio vedere Se c'erano di tavolo Un po' meglio Ma non mi pare Su open Cut off Assolutamente Attribetta Succo suited Anche qui ci sono dei tavoli Che secondo me andrebbero Rivisti Infatti è quello Che stavo cercando di fare Questo è full reg Questo non si capisce Questo potrebbe Non essere full reg Vediamo Mi siedo qui Adesso ne trochiamo A toglierne uno Ok Allora Qui ovviamente Non lo posso togliere Perché fuso rinetto Ci sta bene Questo va bene Questo va tolto Ok Troppo Duschdown alto Questo non folderà mai No Neanche ci provo Mi piace leggere le chat Per vedere Ok Se uno se la prende Sta delayando Adesso con una potata Altà Non mi va di cecollare Tutte e due Con quel tipo di player Non vedo il grosso vantaggio Di andare a barrellare Totalmente in bluff Troppo short Lui neanche la difendo 4-4 Qt invece Voglio tribettarla ancora Voglio giocare solo con lui Non me ne Gli altri se ne vadano A quel paese Devo giocare io con lui Da notare che ci siamo presi Molte call for bet Comunque Anche se Potrebbe essere Memoria selettiva Credo dipende Tra fatto comunque Sto tribettando molto Ovviamente Anche in isolation Asso K Vado a cibettare per valore Che direi che il board Non è stato proprio Grande amico Possiamo provare due In delay Vediamo che succede Secondo me non serve neanche Cibettare grosso Tanto sia da foldare Fold L'idea è far foldare Flashtro Far foldare 7x Quindi Inutile che sparo La bordata Arriva Non mi serve Assolutamente In nessun modo 9-8 Ho aver bettato Perché tanto Fusoninetto Se ha qualcosa Dovrebbe mettere Forse non è stata La scelta migliore Cosa ha foldato Vabbè un 10 Ci poteva stare avvenendo E bettare un po' Più piccolino Ma non è che Sarebbe stata Cioè la scelta lineare Però a me piace sempre Spingere gli avversari Oltre i propri limiti Proprio per una questione Di Prendere la zona di comfort E strapparla In mille Diciamo in mille brandelli Qua vado a tribettare In bvb Ok Finora Vediamo Anche se non abbiamo Molti casi Oppi non abbiamo neanche uno Vabbè io lo ci betto Mi piace 21-55 Ok Allora c'è quel turn Intanto Allora Cosa mi posso aspettare Da questo river Io Qui in realtà È molto borderline Cosa mi posso aspettare Da questo river Jack-Jack Quelle poche volte Che ci sono Dei TX Ma penso di poter essere Ogni tanto buono Vabbè La KT Vabbè ovviamente Quella ci sta Però non l'ha bettato Quindi l'idea secondo me Di callare river Ci poteva stare Gutshot Più flush Devo mettere Assolutamente E a questo punto Mi faccio cazzini Ok Facciamo una cosa Sono 48 minuti Faccio Che mi metto Sit out A next peak blind E mi piglio una breve pausa Qua calo Voglio tenere Dentro anche il fish Che se ne è andato Cazzo Allora A questo k Me la check Back Una street Per poi andare A barrellare Più grosso Tarn e river Qui ci facciamo Una 4 bett in blef Con K5 suited Che comunque È una discreta mano Per 4 bettare in blef Di solito In BVB Non uso gli assi suited Semplicemente Perché con Ass 2 Ass 3 Ass 5 suited Chiamo le 3 bet Quindi non Non mi interessa Ovviamente Andare a A 4 bettare Non la reputo La scelta migliore L'unica mia paura In questo caso Se si spacchino i tavoli Me ne faccio altri Tanto quante mani abbiamo fatto Finora 600 Va benissimo Qua su una retta di gioco 600 mani Va bene Ricordatevi che non è l'obiettivo Cioè l'obiettivo Deve essere Casamente quante ore Grindare Come Come gestirle Questo è il lavoro Su cui dovete agire Tutto ciò Su cui potete impattare Quella è la parte Più importante Allora Clale 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 Vabbè Quando fanno Questi piccoli Race Per capire Dove sta nella mano Preferisco sempre Chiamare Perché potrebbero Farli totalmente A caso Ora Se betta Questo river Invece Sono convinto Che Non è più A caso No Vado a Affoldare Ugualmente Non importa Ok Qui Sfinito Che finito Che finito Questo tavolo Sta morendo Va bene Vabbè Direi che il video È stato abbastanza lunghetto Stavolta Direi che quest'olta Ci avete veramente Una bella sessione lunga Per questo vi ringrazio E spero che Queste tipologie di video Vi piacciono E per qualsiasi dubbio Chiarimento Scrivete tranquillamente E soprattutto Entrate nella Prasti Poker Academy Per mettere le vostre mani Commentarle E lavorare Nella maniera migliore possibile Un abbraccio Un saluto Da parte di Prasti